Gli isolani sono otto, lo stesso numero dei bambini, così non c'è da litigare per decidere chi si debba portare a casa un piccolo ospite e chi no. Lata si è già avviata verso la capanna tenendo Sara per mano, ma con gentilezza. Io prendo questo, dice Solco il contadino e poggia la mano sulla spalla di Nico. E io questa, esclama Rachna, indicando Milena. Ma sono fratelli, fratelli gemelli, non li potete separare, protesta Goran. Oh, senti, adesso non mettetevi a fare difficoltà, ci tocca un bambino per uno e anche se sono fratelli devono separarsi per forza, dice Lenzo, il pescatore. Corri, corri, comincia ad abbaiare. Sulla roccia Ua sbatte le ali. Preoccupati, gli isolani vedono spandersi nell'aria un leggerissimo sbuffo di polvere luminosa. D'accordo, d'accordo, resteranno insieme, si affretta a dire il falegname guardando i compagni in cerca di una soluzione. E la trova con facilità. Farin e Solco sono fratelli e vivono insieme in una casa di tronchi più grande delle altre, dove Farin ha sistemato un piccolo mulino e forno per cuocere il pane. Solco cura il frutteto e coltiva il grano che il fratello macina per ottenere la farina. Sì, noi due prenderemo i gemelli, accetta Solco. Ua sulla roccia chiude le ali. Corri, corri, smette di abbaiare. Nico e Milena si avviano con il mugnaio e il contadino. Rachna brontola un po', ma poi sceglie Nina. Mi sarà di aiuto con quelle piccole dita svelde e sottili, pensa. Greta accetta di prendere Maria. Nessuna delle tre donne ha pensato di ospitare Cic. Forse hanno dimenticato che i bambini molto piccoli hanno bisogno di cure materne. Il falegname, che è il più forte di tutti gli isolani e fa il lavoro più faticoso, decide di ospitare Goran, che è il più alto e robusto dei bambini. A questo punto Trappo, il cacciatore e il pescatore Lenzo litigano perché nessuno dei due vuole Cic. Ma cosa me ne faccio? protesta Trappo. È solo un impiccio, brontola Lenzo. Corri, corri, comincia ad abbaiare. Was batte pigramente un'ala. Dall'acqua della riba si solleva uno zampillo e si sente uno scroscio. Adesso ci si mette anche Splash, sbuffano i due litiganti. E per non correre il rischio di qualche altra spiacevole magia, si giocano i due bambini ai dadi. Vince Trappo che si porta via Milo e al pescatore non resta che prendere in braccio Cic chiedendosi di malumore a cosa gli potrà servire quella scimmietta che non è neppure capace di stare dritta in piedi e come potrà tenerla tranquilla e farla smettere di frignare. Grazie a tutti.